091 96 11 08 Buonasera a tutti, oggi in studio con me Antonio D'Anni, medico e presidente del centro studi Cestes. Grazie Antonio per questa tua partecipazione, il mio amico è un medico, si interessa di alimentazione, però di questo argomento ogni volta non ne vuole parlare, preferisce parlare di altri temi, temi economici e sociali che riguardano la Sicilia e in particolare la città di Palermo. Di argomento di alimentazione ne parleremo in una prossima trasmissione. Intanto io ti volevo chiedere, Antonio, grazie per questa tua partecipazione, ti volevo chiedere che cos'è il Cestes, appunto abbiamo detto un centro studi, ma in effetti di che cosa si interessa? Io ringrazio dell'invito e voglio dire due cose, uno, io vedo uno spicchio di società da due lati, una come medico, che è il medico al polso della situazione, non ce l'ha certo il politico che vive nel castello dorato della partitocrazia. Il centro studi si occupa proprio di vedere sul territorio che cosa è la storia, quali sono i bisogni sociali, siamo un gruppo, non tutti medici, anche di assistenti sociali, psicologi, che ci occupiamo di storia, di recupero dell'ambiente, ci occupiamo di che cosa ha bisogno oggi il cittadino, perché molti non si rendono conto che siamo in miseria, siamo caduti per colpa di leggi, leggine e tutte queste cose. Siamo della burocrazia soprattutto. Esatto, ma anche della partitocrazia, perché loro non hanno fatto altro che creare disoccupazione. Soprattutto nella sanità tutti lamenti spesso che ci sono parecchie cose che non vanno, ma l'approfondiremo. Prima ti volevo chiedere una cosa, tu in quest'ultimo periodo hai assunto un atteggiamento molto critico appunto nei confronti della politica, che ne stavi iniziando a parlare, però secondo te le cose peggiorano sempre più? Che giudizio possiamo dare noi così spassionatamente, sia sul governo Renzi, sul governo Crocette? Io non parlo del singolo governo, parlo di una cosa d'insieme, perché noi abbiamo avuto sempre, come diceva Schopenhauer, che bisognava squarciare il velo di Maia per vedere la verità. Noi abbiamo avuto sempre la destra e la sinistra, il centro, ma tutto questo alimentava una perversa partitocrazia, che serve a mantenere le loro poltrone. Tu me li insegni che quando noi eravamo ragazzini c'era l'onorevole Tizio, che era professore universitario, c'era quello che era avvocato, ma ora questi nostri cosa fanno, che professione fanno? Cioè non voglio fare il nome. La democrazia deve essere rappresentata e deve rappresentare tutti. Però, dico, si arriva a non guardare gli interessi. Un esempio pratico, se io faccio società con te per un negozio, per un'attività varia, lo facciamo negli interessi reciproci. Le arance, di cui andremo poi a parlare, dell'agricoltura, per esempio, o di altri prodotti, se io entro in comunità europea, ma devo cercare di vendere i miei prodotti, non che l'Italia entra in comunità europea come nazione industriale e la Germania come nazione industriale ed agricola. Noi del sud che cosa siamo? La solita colonia. Ma siamo colonia anche di noi stessi perché i rappresentanti li abbiamo, che sono ascari degli interessi del nord. Questa è la cosa tragica. Perché oggi leggono i giornali che la Comunità europea vuole togliere il dazio, diciamolo così, all'importazione dal Marocco di arance? Ah, lì c'è la manodopera inferiore. Allora che cosa dobbiamo fare? Perché costruiamo fabbriche di scarpe in Croazia o di camicie nel Bangladesh? Perché nel Bangladesh vengono create, vengono tessute delle camicie che poi qui troviamo a prezzo alto, per la manodopera. E allora perché i sindacati hanno fatto aumentare la manodopera? Allora qua ci deve essere un divario tra ricco e povero. No, però non c'è la via di mezzo. Ecco, comunque dobbiamo chiarire un aspetto che tu non sei contraria all'economia degli altri paesi. No, assolutamente. Questo è un aspetto, cioè tu sei favorevole ad una forma di collaborazione, però nel rispetto di alcune, diciamo, normative che non danneggitano soprattutto l'Italia e la Sicilia. Tu hai fatto riferimento al caso delle arance che è abbastanza emblematico, però questo ragionamento potrebbe anche coinvolgere altri settori dell'economia, soprattutto siciliana e cose. Tu parlavi poc'anzi di un altro aspetto, per esempio del pagamento delle tasse al nord, mentre secondo te dovrebbero rimanere in Sicilia soprattutto le tasse che pagano quelle aziende che estraggono carburanti, diciamo. Perfetto, ma anche le raffinerie. Le raffinerie. Noi la Sicilia, non perché io sia siciliano, ma perché ami la Sicilia. Tu ami molto l'autonomia, ti sei battuto in passato. Passato per questo, io proprio sono siciliano e credo che essere siciliano è bello, e ognuno di voi che mi ascoltate per ora deve essere orgoglioso di essere siciliano, perché è una cosa grande. E vedere le nostre coste inquinate, Priolo, non cresce più l'erba, Milazzo con l'altra raffineria e Gela, quindi abbiamo tre raffinerie che inquinano, ma le tasse vengono pagate nella sede che è a Milano o al nord. Intanto non dovrebbero inquinare, quindi in questo caso la magistratura dovrebbe essere più attenta pure alle problematiche che riguardano l'ambiente. Poi c'è un problema di carattere finanziario. Fiscale, che non capisco. Loro parlo di federalismo fiscale, ma è federalismo fiscale che è in modo loro. Lo stiamo facendo perché sembra che noi facciamo populismo, ma non è così, sono fatti estremamente veri, reali. Io non sono un politico, per cui non parlo in maniera politica, parlo dal punto di vista di chi va a consumare il prodotto. Dicevo, Antone, noi ci facciamo male noi stessi, perché nel momento in cui noi abbiamo uno statuto siciliano e non lo facciamo funzionare, questo statuto finisce per danneggiare la Sicilia, i siciliani, l'economia e tutto. Come no? Ma tu sullo statuto pure volevi dire qualcosa. Lo statuto, dico una cosa, non dobbiamo dimenticare che lo statuto regionale è antecedente alla Costituzione italiana, perché fu firmato dall'allora reggente, Principe Umberto II, non per bontà, ma perché in Sicilia era scoppiata una guerra, dico civile, di secessione tra la Sicilia e l'Italia. E allora si arrivò a questo concordato di fare un'autonomia speciale. Dopo ci fu l'avvento della Repubblica, dopo ci fu la Costituzione italiana. Quindi non dimentichiamo che il nostro statuto è antecedente, i nostri politici non lo sanno questo. E il Parlamento siciliano è una continuazione, è un appendice di quello più... Ma tu ritieni che così come è strutturato lo statuto va bene oppure andrebbe modificato? Lo statuto andrebbe benissimo, non capisco perché modificarlo se non si è mai applicato. Perché il Presidente della Regione siciliana, mai è successo, deve essere presente al Consiglio dei Ministri quando si parla di Sicilia. mai e qualche volta che è stato proposto e quando era di corrente... Qua c'era uno di centrodestra e lì c'era la sinistra. Ma non c'è stato mai questo. Perché non fare valere tutto lo statuto? Ma dico, per questo statuto sono molte persone. C'è stata una guerra, c'è stata gente che credeva e ora questi politici che lo stanno profanando in tutti i sensi. Come attuare lo statuto? Però questo statuto ha consentito anche una serie di privilegi ai vari deputati e quindi con grande danno anche per le casse... Certo, perché non fu creato per questo motivo. Non fu creato per questo motivo. Ma purtroppo, ripeto di nuovo, la partitocrazia e non c'è un partito come in Sardegna, partito sardo d'azione, o come in Scozia, un partito indipendentista che non scende... Noi abbiamo avuto partiti sicilianisti, ma che poi, una volta eletti, passavano alla democrazia cristiana, al partito socialista, ad altre cose. Questo, quindi non abbiamo mai avuto una vera identità siciliana. Cioè tu dici che dovrebbe esistere un partito di forte ispirazione autonomista sicilianista... Io non dico separatista, ma... No, a garanzia degli interessi dei siciliani. Però, insomma, tutti i partiti dovrebbero garantire, diciamo, alla Sicilia condizioni appunto di sicurezza, di sviluppo, di crescita. Completamente. Questo purtroppo poi... Il turismo, noi siamo una nazione... Allora, una piccola parentesi. L'Italia ha il 90% dei beni culturali al mondo, credo. Sbaglierò di un 10%. La sola Sicilia... No, il 70%, scusa, sbagliato, il 70%. La sola Sicilia ne ha il 35%. Ma perché non valorizzare? Quando la gente viene, va a Piazza Armerina e vede quella bellissima villa romana, resta sballordita, ma ci va, è un mordi e fuggi, perché non c'è stata una politica per valorizzare gli altri luoghi. Là vicino c'è la famosa Erbesos, Montagne di Marzo, che è un'antica città greca, grandissima, ma è scavata. E ci vanno i tombaroli, la polizia che li caccia, cerca di catturarli, ma non c'è stato mai un impegno. Allora io dico una cosa. Non abbiamo i soldi per poterlo fare, però abbiamo i soldi per poter pagare i pip, i pup, tutte queste cose socialmente utili, a 700 euro, per cui il lavoratore che lavora con i pip o che altre cose, che guadagna 700 euro, non può vivere, è costretto a fare altri lavori. Allora si faccia uno sforzo, si assumono il contratto e si mandino in queste zone. Il lunedì. Tu sei stato ospite di questa trasmissione assieme all'architetto Rodo Santoro. In una di queste occasioni abbiamo parlato del castello a mare. Ebbene, ricordo che l'architetto Rodo Santoro aveva detto che probabilmente ci saranno ancora degli scavi da realizzare perché potrebbero emergere altri resti del vecchio baluardo della città. Ebbene, ora nel castello a mare si continuano a fare concerti, ora c'è la festa di rifondazione comunista, disconoscendo quanto detto dall'architetto Rodo Santoro. Secondo te è corretto che avvenga tutto questo oppure noi siamo dei sognatori e pensiamo che questa zona dovrebbe essere interdetta a qualsiasi forma di spettacolo, di accesso, se non quello appunto consentito dalla legge che valorizzi soprattutto questi beni archeologici. No, noi non siamo dei sognatori. Se io sono qua in TV, non sono per far vedere la mia faccia, che la gente non c'è frega niente, ma per dire proprio questo, se una persona la pensa in una maniera, due persone, tre persone, poi diventeranno 10.000, 100.000, un milione, quindi bisogna sensibilizzare la gente che la festa, sì, è bella, ma si faccia nelle altre piazze, si faccia al Foritalico, si faccia dove vogliono, ma non in un sito archeologico che bene o male viene deturpato. E quindi in castello a mare, come dicevi giustamente tu, ci sono cose ancora da scavare, da vedere. E allora si creano delle squadre di persone guidate da dirigenti regionali, ma dico, non so se molti degli ascoltatori nostri sono andati al centro della Sicilia, nei Nebrodi, bellissimo, ma per raggiungere, per esempio, Capizzi, città di Nebrodi, Cosperlinga, dove c'è un castello fenomenale scavato nella roccia, è impossibile, con strade franate, cose distrutte, dati lavori così, veramente, a casaccio con chi offre di meno, ci vogliono 100 mila euro, 30 mila, vinco l'asta e cade. Però dico, tu, Paolo Feo, ti ho fatto una domanda, cosa ne pensi il governo Renzi, il governo Crocetta, allora tu mi hai risposto, ma non è un problema di nomi, è la politica, però... La politica è sbagliata. Però, dico, poi la politica viene portata avanti alle persone. Ma non piace, a me non piace. Se non c'è una portazione di recupero appunto dei beni architettonici, dei beni monumentali. È fallimentare. Chiaramente è fallimentare perché la portano avanti le persone, l'indirizzo che deve dare Crocetta, per esempio sul turismo, quindi collegato soprattutto ai beni architettonici e monumentali, deve essere di un certo tipo. Se non dà questo indirizzo, sbaglia la politica, ma avrà sbagliato sicuramente anche chi questa politica deve portare avanti. Senza dubbio, mi ha infatti detto, non mi interessano perché io non li approvo, per niente, perché per me... Cioè, a me non interessa attaccare Crocetta o Renzi? Io sono favorevole a qualunque presidente della regione siciliana, faccia qualche cosa di utile per rinanciare il nostro turismo. Noi abbiamo delle opere meravigliose. L'assessore al turismo ha dichiarato che non ha completamente fondi per poter portare avanti. Però i fondi per pagare altre cose l'hanno? Per fare tagli alla sanità e la gente non ha più come curarsi, ce l'hanno. Parliamo della sanità che è l'argomento che tu indubbiamente conosci molto meglio degli altri perché senza non togliere la tua cultura, ma è un settore dove tu lavori e che vivi giornalmente in tutte le sue sfaccettature. Io vedo che la gente... Noi andiamo avanti con tagli... Tagli in continuazione, tagli all'untore, lo specialista esterno, io non sono specialista esterno convenzionato, non mi interessa, ma è il perverso che ruba i soldi. Se ne faccio dentro l'astro, se io mando una persona a fare un'ecografia o qualunque esame, tempi di attesa enormi e allora perché tagliare, tagliare, tagliare? Perché cosa? La spesa sanitaria si divide in due fasce, un 70% speso dalle ASP e dagli ospedali e il resto 30% da farmacie, clinica, privata, quindi farvi vedere la BIS, se voi vedete un farmaco 100 euro, la verità è che ci sono sempre delle strutture, perché noi sappiamo, ci sono state ulteriori indagini e quindi anche degli arresti che hanno riguardato l'attività intramuraria, perché cosa si è scoperto? Ma si sa, lo sanno tutti, solo che non si capisce, molte volte le liste di attesa vengono prolungate per costringere, tra virgolette, non tutti, ma alcuni medici. A rendere a pagamento, un altro discorso, si parla del convenzionato esterno, che se io ti faccio una visita di elettorale, ma io voglio che si chiarisca questo aspetto. Allora, io sono pure per la convenzionata esterna, perché è chiaro che uno deve offrire un servizio vario al cittadino, però è pure vero che bisogna stare attenti che negli ospedali non si verificano situazioni tali per costringere il cittadino ad andare a pagamento. Quello è un'altra cosa. Sì, sì, ed è sbagliatissimo. E' sbagliato. Tutti, dice, non ci sono medici, tutti questi miei colleghi che sono delle aspe che vengono mandate per commissione, per questo. E poi ti dico un'altra cosa, perché tu ne converrai sicuramente. In alcuni ospedali vengono acquistati dei macchinari che costano 5 milioni di euro. Se noi poi facciamo un raffronto sul costo-beneficio ci accorgiamo che quel macchinario che alcune volte viene dato, viene preso e incomodato d'uso mai riuscirà a pagarsi perché non vengono poi effettuate tutti gli esami oppure le operazioni per consentire che ci sia un beneficio dal costo che si è dovuto affrontare. Ultimamente non lo so perché non sono più al Policlinicon in ospedale ma quando ero un ragazzo queste cose succedevano ad Aiosa. No, ma ho fatto notizia da un macchinario di Vila Sofia compratemi l'abbiamo letto sul giornale e in altri posti sappiamo anche in altri ospedali ci sono macchinari acquistati e non assolutamente utilizzati ancora impacchettati. è chiaro che la sanità ha difficoltà da andare avanti perché costa molto però è pure vero che ancora non c'è una razionalizzazione della spesa che appunto si snellisca la burocrazia della sanità questo è il danno maggiore quanti impiegati ci sono? Le vuoi licenziare? No, le voglio fare lavorare in altra maniera come voglio io voglio i laboratori di analisi c'era questa vecchia vicenda se ne parliamo mi sembra opportuno perché molti alcune volte arrivano nel laboratorio di analisi e non si possono fare nemmeno le analisi perché è finito il budget no, ora no perché loro hanno risolto hanno dimezzato la quota quindi se voi il pane lo comprate un euro da domani 50 centesimi questo l'hanno fatto ai laboratori quindi il laboratorio non so più come i laboratori i consorsi perché il precedente assessore ha avuto l'intuizione lo spirito santo forse si sarà sceso e l'ha illuminato nel dire in maniera demagogica abbiamo diminuito i laboratori ma in effetti i laboratori sono aperti hanno creato spieghiamo perché hanno imposto ai laboratori di riunirsi in consorsi quindi io che ho un laboratorio tu che hai un laboratorio la signora che hai un laboratorio e lavorava autonomamente in maniera artigianale no non si può fare si deve accorpare quindi questi tre laboratori non mica si scindono o si sciolgono voglio dire si fanno ma si fondono in un'altra struttura dove vengono inviati con un mototaxi più o meno attrezzato il sangue quindi questo sangue viene aspirato in quel laboratorio poi va girando per carità ci sono container asettici con frigoriferi frigoriferi quello che noi vogliamo ma poi arrivano in un altro centro quindi io salvengo da te perché ho fiducia il dottore cucina che mi fa le analisi personale domani una cosa ma perché perché dare un incentivo ai laboratori per accorparsi e perché se tu non ti accorpi ti levo le convenzioni e perché si pensava che in questo modo si potesse ridurre la spesa no è aumentata perché dall'aumento del 20% si ti accorpi certo però di ora con la riduzione del pagamento il 50% hanno raggiunto l'obiettivo ma se io fossi una proprietà del laboratorio consegnerei immediatamente le convenzioni fatevele voi vediamo chi li fa c'è stato uno sciopero era in ginocchio completo la colpa era dei cattivi laboratori che hanno fatto lo sciopero senta all'inizio abbiamo iniziato a parlare di questo stato di povertà crescente che sta caratterizzando le città perché con l'imposizione di nuove tasse è chiaro che il cittadino viene messo con le spalle al muro pure Viaggio Conte è stato costretto almeno per il momento speriamo che torni ad abbandonare l'attività diciamo molto caritatevole e sociale che aveva svolto per tanti anni nella città di Palermo cioè come è concepibile una cosa del genere ma la cosa che a me dà fastidio è che nessuno forse siamo colpevoli a tutti noi cittadini ma non parliamo solo di di lavoro in nero perché dico non è che tutti lavorano in nero io pago l'idea di Dio di tasse e sono un medico e ho pure delle difficoltà io a certe volte con tutte le cose quindi tu dici sei il professionista siamo verso un livellamento verso il basso sei il professionista per carità comprendo che il tenore di vita è diverso ma se il professionista già finisce per avere difficoltà vai a pensare l'operaio l'operaio non può più vivere non ci arriva ambienti che problemi avranno io ho notato ho visto vicino al mercato quando ci sono i mercatini che ci sono signori che vanno si dice a scalare la monnizia cioè a cercare l'immondizia mondizia la foglia di lattuga rimasta integra o la patata più o meno bacata e la prendono insomma la povertà è crescente è crescente noi che dobbiamo giustificare la delinquenza quella è un'altra cosa ma la povertà è crescente la vecchietta non può più io mi trovo persone da assisterle come Cestes o come Ordine Costantiniano o altre cose persone che stanno i veri poveri sono vecchiette che non riescono a vivere con 600 euro di pensione 700 quelli che siano devono pagare 300 euro di affini senti l'ordine ti hai parlato dell'ordine costantiniano anche con l'ordine costantiniano avete portato avanti una serie di iniziative diciamo benefiche a Morreale briciole di salute che cos'è briciole di salute e abbiamo inventato la carta vetrata cioè ci siamo accorti che la fascia da 0 a 3 anni non è assistita da nessuno e allora insieme all'arcivescolo di Morreale sua eccellenza reverendissima Monsignor Pennisi abbiamo ideato questo nuovo briciole prima briciole di salute ora nuove briciole di salute con i soldi nostri e anche la curia di Morreale ci ha aiutato in un certo senso anche dandoci locali segnalandoci le famiglie povere prima la vecchia gestione del comune e quindi segnalate queste famiglie noi appendiamo fuori giorno sembra una cosa tipo guerra mondiale pane a tanto allora distribuzione gratuita dopo guerra prima o dopo guerra esatto distribuzione gratuita dalle ore alle ore chi arriva arriva noi abbiamo iniziato con 35 famiglie abbiamo fatto il compleanno ora un anno e praticamente con 35 famiglie siamo arrivati a più di 100 è venuto l'altra volta infatti l'altra volta il ministro ci dovemmo portare il presidente della regione qua a fargli vedere quella è la situazione voglio essere un pochettino critico nei confronti della curia perché almeno la curia di Morreale si è dimostrata sensibile per carità la curia di Palermo non dico che non è sensibile però secondo me la chiesa anche per esempio abbiamo affrontato l'argomento dei senza tetto potrebbe essere un pochettino più aperta e concedere se è possibile alcuni locali proprio per i senza tetto perché è un modo per aiutare ma infatti al di là se poi queste persone hanno i requisiti per ottenerli o meno io lavoro moltissimo a Morreale perché naturalmente la curia è più piccola anche se è grande come territorio anche con Palermo a Palermo noi abbiamo aiutato diverse chiese San Francesco di Paola San Francesco di Paola ma anche una chiesa meravigliosa nel centro storico senza senza fedeli perché sono tutti là esdramici che è la chiesa in cui parlo che è Monsignor Grimaldi Salvatore Grimaldi con medicinali campioni in assistenza che lui tramite delle monache che sono a Piazza Bellini distribuiscono a tutti a comunitari ed extracomunitari perché non ci illudiamo che ci sono solo gli extracomunitari noi abbiamo siciliani che non hanno i soldi per poter andare a fare la spesa e poi abbiamo collaborato anche con altri paesi quindi siamo la curia di la curia di monreale voglio prevenirti perché sta creando dei mini appartamenti di dare agli sfrattati di monreale per un breve tempo ma noi siamo favorevoli a questa iniziativa una cosa meravigliosa ma invece non comprendiamo come invece non vengano ceduti alcuni locali delle opere oppure di proprietà della curia senza tetto oppure alle famiglie oppure creare questo un contratto a breve tempo sei mesi tu sei mesi l'altro c'è un alloggio temporaneo anche perché ora soprattutto dopo l'abbandono del Biagio Conte non sappiamo questa struttura ma questo è il Biagio Conte è una cosa gravissima perché quello che noi abbiamo fatto a Morriale con Picio di Salute in grande perché quell'uomo nella sua spiritualità nella sua santità può sembrare un tipo sciavagante ma è un grande uomo una persona che ha fatto veramente che l'ha sentito ha abbandonato il mondo per creare quelle cose zappando con le mani mettendo i chiodi io ci ho collaborato tempo addietro mettendo tutta questa gente sotto un tetto ha creato senza aiuto di nessuno si ogni tanto c'era la regione al comune che ci vanno da questo ritorniamo alla politica abbiamo accertato che parecchie cose non vanno però poi compare Renzi in televisione dice che toglierà le tasse quindi il cittadino probabilmente crede a quello che sente dire in televisione dopodiché la realtà è questa non solo ma i comuni si attrezzano per aumentare la tasse tutte quelle tasse che stanno rendendo la vita impossibile che stanno facendo aumentare il tasso di povertà che ormai è visibile appunto come dici tu quando si vedono persone che vanno a cercare gli alimenti nei contenitori dell'immondizio oppure vicino ai mercati per raccogliere i resti dei mercati mi sembra che siamo arrivati a un punto diciamo di non ritorno l'Italia è iniziata con le tasse nel regno borbonico c'erano 5 e 5 sole tasse l'indomani mattina la gente si è svegliata con altre 31 tasse in più hanno messo pure la tassa sull'accattolare ci dobbiamo inventare qualcosa di diverso perché non possiamo ritornare al tempo dei borboni ma quelli sono 150 anni fa magari ci tornassero ma non ci possiamo tornare questo incontro e la cosa per concludere avevo parlato di Birgi noi abbiamo un aeroporto in una provincia e nessuno pensa che questo aeroporto potrebbe portare migliaia di turisti perché la provincia di Trapani è quella che c'ha l'isola dello Stagnone l'isola Egadi se gesta e se l'inunte è una buona idea complessiva perché l'aeroporto ne abbiamo troppo in Sicilia ogni provincia quando c'erano le province io non ho tradito un consigliere non è che ogni provincia può avere un aeroporto però bisogna fare una politica turistica per portare infatti questo dico tu c'hai l'aeroporto ci dobbiamo fermare Antonio ci rivedremo poi a parlare di alimentazione perché inizieremo un ciclo di trasmissione sulla medicina ritorneremo a parlare di medicina e quindi parleremo di alimentazione io intanto ti ringrazio per questa partecipazione grazie ai telespettatori buonasera a tutti